Il problema vero qual è? E' che noi non sappiamo che è presente sul territorio nazionale, perché se la famiglia è disperata con i bambini, che si scappa da una guerra, bisogna aiutare, non c'è dubbio, però se noi non sappiamo che è presente sul territorio nazionale, quale sicurezza garantiamo? Nel Friuli Venezia Giulia, nella mia regione, a Udine, in un ex centro islamico, sono state trovate 30 persone, 26 non sapevano l'esistenza. Altri migranti afghani... Quindi c'è un paese pieno di invisibili, questo ormai. Quando ci raccontano qui va tutto bene, perché io sono d'accordo che dobbiamo garantire la sicurezza ai cittadini, ma anche dire la verità. E qui non si può dire che qui va tutto bene e tutto sicuro. Noi dobbiamo invece potenziare la sicurezza per garantire ai nostri cittadini quella sicurezza, che non può essere solo una sicurezza a parole, ma deve essere una sicurezza di fatto. Io non vorrei mai piangere il giorno dopo qualcosa o qualche dramma che succede sul territorio nazionale. E se mi permette, ricollegandomi al discorso di prima, la questione Siria, a me il rischio di rifare la Libia 2 è quello di continuare a dire come fa Obama e come ha fatto il Presidente del Consiglio italiano Assad un dittatore. Benissimo, non sarà uno stricco di santo, nessuno lo dice, ma quanti ce ne sono in giro per il mondo?